Ciao a tutti, io sono Orazio Ferniani di Alba Mediterranea, abbiamo sentito tante versioni dello stesso tema, voglio aggiungere qualche altro argomento per completare lo scenario. Allora, vi voglio seguire a parlare del decreto legislativo 130 che è quello che ha messo in mano a questa casa di infami la vita di tutti noi. Praticamente per approvare questo decreto legge ci hanno messo circa 10 anni, sono trascorsi 6 governi diversi da quelli di centro-sinistra a quelli di centro-destra passando dai tecnici, dicono loro. Insomma, hanno dovuto trascorrere 10 anni perché hanno dovuto sistemare le cose altrimenti avrebbero rischiato di essere portati davanti alla Corte Costituzionale. Praticamente questa legge ha sconquassato il sistema giuridico italiano perché il corpus appunto delle leggi del Codice Civile è un monolite, è un qualcosa di integrale, di integro, di inamovibile che è interrelazionato l'uno con l'altro, un articolo con l'altro e quindi è una cosa completa, coerente. Hanno dovuto cambiare questi quattro articoli del Codice Civile per poter permettere l'emanazione e l'entrata in vigore di questa legge perché questa legge tocca una marea di diritti, dal diritto di possesso, al diritto alla giustizia, dal diritto a tanti altri argomenti che stravolgono il concetto generale del diritto, dello IUS. E a loro volta hanno dovuto bypassare tre articoli della Costituzione, come ad esempio l'articolo 3 e altri articoli che non sto qui a citare per non entrare troppo nel merito, ma c'è uno che va detto che è quello di essere giudicati da un tribunale italiano secondo le leggi italiane. Io nasco in Italia, agisco e vivo in Italia, compio un reato in Italia o il sacro santo diritto di essere giudicato da un tribunale italiano secondo le leggi italiane. L'amico Luigi prima ha nominato il decreto giustizio 130 ma non è entrato nel dettaglio, ma bisogna entrarci perché così si capisce che cazzo hanno combinato questa banda di infami, tutti d'accordo ovviamente, come abbiamo capito. Cioè hanno stravolto il diritto civile e il diritto costituzionale. Praticamente può succedere che senza che voi sappiate un cavolo, vi ritroviate perché è semplicemente un funzionario di una filiale qualunque ce l'ha con voi, che il cancelliere del tribunale dove voi risiedete è d'accordo con il giudice perché per legge lo può fare, tre soggetti giuridici soltanto, cioè le banche, le finanziarie e le assicurazioni portano una documentazione in cui si attesta che voi siete debitori di una cifra qualunque, senza dover altro a portare e giustificare, il giudice senza portarvi in processo come dovrebbe fare, come si fa per tutti, dopo 5 anni, 10 anni emette il verdetto, appello, cassazione eccetera, no, questi tre soggetti possono semplicemente portare questa documentazione in cui è descritto il vostro debito e il giudice lo deve controfirmare senza analizzare e verificare se è vero o non è vero. Dopodiché viene cartolarizzata questo debito presunto e viene infilato a fettine in fondi più o meno tossici che vengono venduti ai vari stock exchange a Londra, Manila, New York, a Tokyo e voi vi ritrovate debitori di un compratore che ha comprato all'asta a Tokyo piuttosto che a Manila, Hong Kong eccetera per cui vi ritrovate debitori di uno che forse è statunitense, canadese, maltese, che ne so, ad Itreo, no? E questo poi fa valere le sue presunte ragioni per cui, come è successo a tantissimi di voi, di qualcuno che non è presente o altri che non sono presenti, tantissimi altri, perché qui stiamo parlando di 3 milioni di pignoramenti che ha fatto questa legge del decreto legislativo 130 e praticamente vi ritrovate a subire un'azione di recupero del credito da una banca Morgan o da una controllata della Morgan Stanley o di chiunque altro che ha una consociata e una controllata qua in Italia, la quale vi fa fare l'azione di pignoramento da un ufficiale giudiziario e voi dovete pagare sull'unghia, manco più rateizzato perché essendo un debito internazionale va pagato sull'unghia. Quindi voi vi trovate senza fra l'altro l'obbligo della notifica, perché questo decreto 130 ha eliminato pure l'obbligo dell'atto di citazione della notifica. Per cui vi ritrovate come tanti amici miei che vanno in banca a prelevare per motivi loro e si ritrovano con il conto bloccato. Domandano perché c'è il segreto bancario, per cui tu non puoi neanche sapere per quale motivo non puoi prendere i tuoi soldi. Quindi uno lavora, produce ricchezza per poi alla fine sentirsi dire da quello che dovrebbe essere l'ultima ruota del carro che è il nostro servitore, il cassiere che sta lì per darci i nostri soldi, si deve sentire che i tuoi soldi sono bloccati da un altro infame che sta in Canada piuttosto che in Australia. Tutto questo è stato messo in piedi strumentalmente, non è che è capitato così per caso per lo Spirito Santo come ha detto qualcuno prima. Tutto questo è messo in piedi scientificamente, cioè è una strategia messa in atto gradualmente, in particolare a partire dal 92 ma fin dalla perdita della guerra, non ci scordiamo le Amlire, Marco Sabba ci ha scritto un libro, il nostro amico che oggi non è qui, sulla fortuna del signor Abete, della famiglia Abete, non so se conoscete qualcuno degli Abete, che ha stampato un po' di Amlire anche per la tasca sua, giusto da Tarjan de Poche. Tutto questo per dire però che qui c'è una strategia intenzionale, non è casuale, è una metodica messa in piedi e strumentale ad un fine, ad un raggiungimento di un fine. Non è che uno si sveglia la mattina e dice vado a fare le cartolarizzazioni per andare a rovinare Giorgio piuttosto che Giuseppe. Lo fa con l'intenzionalità di entrare in possesso dello Stato. Voi sapete, conoscete quanti popoli ci sono che sono privi di uno Stato e sono un popolo? Tanti. Diamo un benvenuto agli amici, grazie, gentilissimi. Allora, seguito il discorso se posso... Scusate, fatemi finire il discorso poi... Allora, quindi qui c'è una strategia di sottrazione delle sovranità. Cioè non è più una questione di un povero disgraziato, di un fetente. Io non pago tasse dal 1985, così per la cronaca, perché nel 1985 mi sono reso conto degli infami che ci governavano. Quando io nel 68 mi sono visto scippare la rivolta, non ho fatto come gli altri che hanno abbandato la rivolta. Io l'ho solo messa in un attimo, in un angolino. Ma io sono sempre lo stesso. Quello che volevo nel 1967-68 lo voglio adesso. E quindi, questa volontà strategica sovranazionale di sottrarre la sovranità agli Stati, perché questa è la finalità ultima. La sottrazione della sovranità ai cittadini...